Posso però dire una parola sulla vicenda del carabiniere perché in un paese in cui i soldi pubblici vengono spesso anche sprecati in tanti rivoli, in cui si danno anche redditi di cittadinanza a chi non lavora, dobbiamo ricordarci che questi uomini dello Stato rischiano la vita sulle strade e nelle piazze italiane per 1200-1300 euro al mese, questo volevo dirlo.